L'AFA non accenna a diminuire, anzi, questa secondo gli esperti sarà la settimana più calda dell'anno e inevitabilmente anche la qualità dell'aria che respiriamo ne risente. I livelli di ozono in provincia hanno sforato la soglia limite di 120 microgrammi al metro cubo. A Calusco Dadda sono stati toccati nella giornata di sabato ben 190 microgrammi e ieri 181. Anche a Osio Sotto il valore è molto alto, 168. In città la centralina di via Goisis ha registrato 129 microgrammi, complice la diminuzione del traffico veicolare. L'ozono è un gas naturale che negli alti strati dell'atmosfera è protettivo per la terra, ma a livello dell'aria che respiriamo alte concentrazioni diventano nocive per la salute. Ciò che crea l'ozono fondamentalmente è il traffico veicolare. Strano, stiamo tornando a parlare di problemi legati al traffico, come ne abbiamo parlato quest'inverno, così ne dobbiamo parlare quest'estate. L'ozono attacca i tessuti delle vie aeree e provoca disturbi alla respirazione, come casi d'asma e tosse. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'inquinamento da ozono causa in Europa 14.000 ricoveri per malattie respiratorie all'anno e 21.000 decessi prematuri, soprattutto fra gli anziani e i bambini. La giornata più calda, secondo gli esperti, sarà quella di mercoledì. I consigli per limitare i danni da ozono sono principalmente di evitare le attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione. Soprattutto bambini e anziani è bene che non iscano nelle ore più calde e non vadano nei posti dove invece sarebbe consigliabile andare normalmente. Quindi non vadano nei parchi perché in quei posti c'è la maggior quantità di ozono, appunto perché è ossigeno degradato. Anche l'alimentazione ha una grande importanza, con una dieta ricca di acqua e sostanze antiossidanti, come frutta, verdura di stagione, uova e carne bianca, ricche di vitamina C e selenio.